La conferma arriva mese dopo mese. I dati dell'Auditel premiano ancora una volta la nostra emittente, a dimostrazione che il nostro è un pubblico fedele, che ci segue con costanze di interesse e al quale non possiamo dire che grazie. Le cifre di ottobre mettono ancora una volta Teleuniverso sul gradino più alto del podio tra le tv locali del Lazio. La cifra media dei contatti giornalieri si è affermata ad oltre 93 mila. Telespettatori mattinieri, quelli che seguono i nostri programmi, così come confermano anche i dati della fascia oraria 7-9. Non abbiamo rivali. La nostra rassegna stampa, che spazia dalle pagine dei quotidiani locali a quelle nazionali, con approfondimenti giornalieri su tematiche diverse, ha fatto un ulteriore passo in avanti rispetto anche alle già ottime cifre di settembre. Il nostro Tg si conferma uno dei traini principali per gli ascolti, specie nelle edizioni delle 2025 e delle 23.15. L'informazione e l'approfondimento sono i nostri punti di forza. Ancora una volta il salotto politico del martedì sera a porte aperte con il nostro direttore si attesta con grandi numeri di telespettatori. Buona anche l'affermazione dei programmi sportivi, a cominciare da quelli che vi fanno compagnia per tutta la domenica pomeriggio, a partire dalle 14.30 e fino alle 20.00 circa. E gli amanti dello sport si sintonizzano di nuovo il lunedì sera, quando entra in azione un'altra squadra, quella di Bordocampo. La new entry di quest'anno, nel pomeriggio del sabato, conquista consensi. Don Dino ed il suo programma Dindon Art, dedicato ai più piccoli, registra un'ottima partenza. Non solo Lazio, anche i nostri ascoltatori in Abruzzo e Molise aumentano di mese in mese. Continuiamo a lavorare per crescere sempre di più. Grazie a voi.